Il fine anno in note a Capri a proposito di musica e che musica è arrivata Mariah Carey, la regina del Rhythm & Blues di Long Island che con oltre 150 milioni di dischi venduti nel mondo ha superato perfino Elvie Presley, è stata premiata con un award alla carriera. La Carey ha commentato la candidatura all'Oscar come attrice nel ruolo di assistente sociale in Precious. Il cinema mi affascina, ha detto la cantante, ma la musica è la mia vita. L'Italia, l'Italia è bellissima, sono già stata una volta a Capri per incidere due cd, ci ritorno volentieri. E' un vero paradiso di luci e di colori.